Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte e ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta nell'ora della nostra morte e ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte e ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte e ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte e ame. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli, nei secoli, ame. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte e ame. Colpendo! Il figlio cronico, un bendimi il dono delle lacrime per rinnovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.